E' la stagione dei congressi e il regista d'amico si aggiorna dirigendo un film intitolato Mariti a congresso. Protagonista Jacqueline Sassar. L'attrice francese in attesa di entrare in scena legge l'ultimo successo librario italiano, Viale Bianca Maria. Nel film Jacqueline è convinta che Alberto Lionello sia un po' picchiato e glielo dice. Lionello per dimostrarle il contrario ci prova e si accorge che queste francesi non sanno tenere le mani a posto. L'attrice francese in attesa di entrare in scena legge l'ultimo successo.